Questo signore si è appena fermato e ha cercato nei cestini probabilmente persone a limite della sussistenza, in pieno giorno, fanno queste cose. Ci stiamo avvicinando a una borsa di indumenti robati, robati da una casa privata. Per la quale è stata fatta denuncia e li hanno sparsi proprio qui davanti alla scuola dove non c'è né una telecamera né una disposizione di guardia, niente. Vedete, come potete osservare, sono indumenti robati, putati alla rifusa dopo un'ennesimo furto in un appartamento privato e non sono neanche stati rintracciati per poter poi informare le persone che hanno subito il furto. Come vedete siamo nei pressi della scuola di via Forze Armate 279 vicino alle case che subiscono un sacco di furti e per cui si stanno blindando ma che a nulla servono queste blindature perché nell'indifferenza completa delle persone durante la giornata arriva.